Amministrative 2013. Si vota il 9 e 10 giugno. Domenica 9 e lunedì 10 giugno si vota per il rinnovo delle amministrazioni comunali in otto comuni del comprensorio. Alimena, Campo Felice di Rocella, Cerda, Geracci Siculo, Gratteri, Montemaggiore Belsito, Sciara, Sclafani Bagni. I seggi resteranno aperti domenica dalle ore 8 alle ore 22 e lunedì dalle ore 7 alle ore 15. L'elettore dovrà presentarsi al seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale. Chi non ha la tessera, o la smarrita, può richiederla all'ufficio comunale del comune di residenza. È possibile votare un candidato sindaco, una lista a lui collegata, e un candidato consigliere. Tracciando un segno sul rettangolo contenente il nome e cognome del candidato sindaco, un segno sul contrassegno della lista. Allo stesso collegata, e scrivendo il cognome del candidato consigliere. È possibile votare un candidato sindaco, e una lista a lui collegata, senza espinere preferenze sui consiglieri. È possibile votare un candidato sindaco, una lista a lui non collegata, e un candidato consigliere. Tracciando un segno sul rettangolo contenente il nome e cognome del candidato sindaco, un segno sul contrassegno della lista, a lui non collegata, e scrivendo il cognome del candidato consigliere. È possibile votare un candidato sindaco, ed una lista a lui non collegata, tracciando un segno nel rettangolo contenente il nome e cognome del candidato sindaco, e un segno sul contrassegno della lista. Si può esprimere un voto di preferenza per il solo consiglio, scrivendo nell'apposita riga, tracciata a fianco del contrassegno della lista, il cognome del candidato consigliere. In questo caso, la preferenza non si estende al candidato sindaco, ma alla sola lista, e al candidato consigliere. È possibile votare tracciando un segno sul contrassegno della lista e in questo caso, il voto non si estende al candidato sindaco. È possibile votare un candidato sindaco, senza esprimere nessun'altra preferenza e in questo caso il voto non si estende alla lista collegata. È possibile votare due candidati al consiglio della stessa lista, scrivendo, nelle apposite righe, il cognome dei candidati. In questo caso, i candidati votati dovranno, necessariamente, essere un uomo e una donna. Amministrative 2013. Si vota il 9 e 10 giugno.